Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo da Sephora perché sono stata sfidata a far parte di una challenge un po' particolare. Io Tom si infatti mi ha inviato un messaggio che andremo a leggere insieme. Cara Gloria, sei stata nominata per partecipare all'APXL Challenge. Sei pronta per testare la durata e la resistenza della nuova linea APXL di Makeup Forever in vendita ed esclusiva in tutti gli store Sephora? Per farlo dovrai seguire pochi semplici passaggi. La tua prova consiste nel testare la resistenza dei prodotti APXL in piscina. Al termine della sfida menziona un'amica e invitala a partecipare all'APXL Challenge. Buona APXL Challenge! Il make-up è terminato, ora sono pronta per la mia APXL Challenge! E adesso è arrivato il momento della verità. Vediamo come si sono comportati gli APXL. Come vedete asciuta a mano pulito, prova superata! Complimenti Makeup Forever! Giuliana Makeup Delight si è stata nominata per questa challenge. Adesso tocca a te mettere alla prova la resistenza dei prodotti APXL. Ti invierò un messaggio con la prova da superare. Mi raccomando, buona fortuna! Volete partecipare anche voi all'APXL Challenge? Potete farlo se avete già acquistato i prodotti APXL o andando nel nostro Sephora facendoli provare? Caricate la vostra foto con gli hashtag Sephora Beauty Community e APXL Challenge, ripostatele e le più belle saranno postate sulla mia gallerie personale sulla mia pagina Facebook. Quindi buona APXL Challenge a tutti! Ciao! Ciao!